Siamo con Paola Roma, ex sindaco di Ponte di Piave, ormai una nostra conoscente in questa rete televisiva. Continuiamo un po' la campagna elettorale che è già iniziata da un pezzo. Oggi presenta di fatto, dà il via di fatto alla campagna elettorale, assieme alla stampa. Quali sono ad oggi i programmi che lei si propone di presentare in campagna elettorale? Abbiamo deciso di scrivere insieme il nostro programma con i cittadini, quindi abbiamo pensato di organizzare degli incontri nel capoluogo a Ponte di Piave, ma anche nelle frazioni Levada, Busco, San Nicolò, Negrisia, insieme a loro, per poter costruire insieme il programma. Questa è una volontà nostra, ben precisa, proprio perché in questi quattro anni e mezzo di mandato abbiamo più volte visto i cittadini e più volte ci siamo confrontati con loro e abbiamo chiesto a loro le particolari esigenze, suggerimenti. Ecco perché non possono rimanere dei semplici spettatori alla finestra e quindi insieme con noi vogliamo proprio che costruiscano il programma di mandato per i prossimi cinque anni. Ecco, ma lei alla fine, adesso che siamo in campagna elettorale, ha capito perché i suoi amici, diciamo, di maggioranza l'hanno poi mandata a casa? Guardi, la vecchia politica la lascio fare agli altri, io sono qui per lavorare ed essere a servizio dei miei cittadini, siamo ripartiti proprio qui dal Piave che è stato treatro proprio l'ultima volta di spiacevoli avvenimenti e siamo vicini a loro proprio perché vogliamo ripartire insieme a loro e dare ai cittadini questa forza di andare avanti e credere in un futuro migliore. Ecco, sicuramente ci vediamo molte altre volte e speriamo che venga con un sorriso che la campagna elettorale vada bene, insomma. Speriamo di sì e questo sarà anche merito dei nostri cittadini.